ciao amici ora che devo pullare io vai via vero il mio porta fortuna se ne va nel momento in cui devo pullare come la mettiamo disgraziato devo pullare io ora ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video siamo su onkaista rail perché è arrivata sparkle una pazza quindi ci piace tantissimo e siamo qui per pullarla sul mio account partiamo con pt29 non so perché sono arrivata a 29 adesso lo aggiustiamo con il 50 e 50 l'obiettivo sarebbe prendere soltanto lei oddio se adesso la sculiamo magari due tre multi nel banner dell'arma per tirarla su in vista di acaron le faccio però l'obiettivo fondamentalmente è prendermi lei e visto che l'hanno perso praticamente tutti non vedo perché dovrei vincerlo considerazione antecedente abbiamo fatto le pull di tutti gli altri queste sono le ultime sono le mie che vedete sempre per prime e cosa molto molto importante c'era pallino qui in camera a blessare tutti il mio gatto è andato via quando stava a iniziare buon auspicio cattivo auspicio si starà a vedere comunque detto questo io vi invito a iscrivervi al canale passate a seguirmi su tutti i social in particolare sul titolo viola dove siamo adesso in live per godervi i momenti direttamente dal vivo che sono sempre più belli e per non beccare tutti i tagli che ci sono nei video delle pull niente buona visione bene come vi dicevo riadrizziamo questo numero perché pt29 di partenza è proprio brutto diciamocelo proprio brutto 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 quindi partiamo belli gasati con una singola 50 e 50 da vincere l'ultimo uscita black swan ripeto ania non pervenuta kinshe e 3 sampo e 6 cercasi guanai fan al giro per la mappa ok alla pt questo 29 andiamo a 30 eccoci qua bene non schifo solo perché non so se c'era il 4 stelle disponibile a breve quindi ok non c'è possiamo andare bene ok bene pt30 meno male sono già a metà pt brava 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 amo conto su di te ok pt40 4 stelle che poi se mi dovesse uscire ora lo perdo mi sta bene per carità cioè perderlo a pt40 mi andava bene anche arrivare a pt80 e perderlo un po' bianco però vabbè dai è andata bene con black swan non si può pretendere tutto poi bene sempre al pt però vediamo dai vediamo se un ania perfetto almeno il dramma del 4 stelle ce lo siamo tolto perfetto un ania e un ania abbiamo ok adesso può uscire qualsiasi cosa cioè più me ne escono sono contenta però non avevo grandi necessità preferivo i 4 stelle che c'erano con black swan quindi alla fine qua adesso quello che mi piace di 4 stelle mi va bene tutto mi bastava un ania perché non la l'avevo presa il suo banner era un banner che non mi interessava ok 154 stelle quindi liscia 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 si che poi diciamoci il 4 stelle a volte più difficile 5 stelle da prenderlo quindi alla fine l'aver trovato ania così ci sta anche quando ci dovrebbe essere subito il 4 stelle tra l'altro bene le amiche di claudia mi invitano a fare un giochettino insieme a loro si va a giocare perfetto ania e uno bene bene si abbiamo il 50 e 50 vediamo se vedete però io il doppio 4 stelle mistico non si sa un po' come il gatto di schrodinger non si sa chissà chissà così è 60 ok vediamo tanto arma e no poi ci succede anche ania quindi non c'è niente va bene ok ho capito un castarele tu mi stai indolando la pillola perché tu sai benissimo che dopo tutte queste ania mi vai a rifilare probabilmente un qualcosa che in questo momento non so che cos'è la cosa peggiore che potrei non volere non lo voglio nemmeno pensare perché poi se non arriva io ho capito il tuo gioco non mi sta piacendo non mi stai piacendo per niente non mi stai piacendo io già sono terrorizzata adesso ha maggior ragione doppio 4 stelle dai no da bene ultima multi poi facciamo le 4 singole 70 ultima possibilità dell'early no alpiti 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 a sto punto speriamo sia tipo 82 83 perché abbiamo visto portare assolutamente bene vediamo come sarà il 4 stelle va bene una pull almeno si è cambiato oh doppio 4 stelle ottimo con una light con volevo quella di di luocia che come vi stavo raccontando prima purtroppo solo r2 il perfect timing e io su luocia uso quello quindi pensate se avessi almeno l'arma essendo a 4 stelle rifainata oh finalmente una multi di tutto rispetto 3 4 stelle di cui 2 sampi che io ho già e 6 e quindi sono 2 pull ok perfetto molto meglio così bene no così molto meglio mi sento anche un pochino meglio io allora tra l'altro fatemi conto di dare quanti style glitter abbiamo qua 38 questi sono adesso rimarranno qua cioè oggi non li uso di sicuro questi rimangono in per quando arriva Acheron ok va bene allora 4 singole e poi abbiamo la nostra multina non dovrebbe uscire il 4 stelle in queste 4 singole perché sono usciti ora 71 72 ok 73 ok e 74 ok giusto giusto gli early pity non esistono allora io un po' con questa musetta in sottofondo aspettate ve la alzo fa ancora più ridere vabbè dai ti prego Sparkle allora io so che ho preso Black Swan e l'ho vinto contro ogni aspettativa però si si magnanima basta via al dente via al dolore a meno 5 stelle 6 non si va oltre la 84 che visto il banner già la situazione era quella che era vediamo dai 75 76 77 78 79 e prima dell'80 incredibile esci prima dell'80 pensa un po' te pensa un po' te va bene dai due multi qua queste non si scommette perché ovviamente sono due multi dai let's go let's go ad alzarsi il pity per la Acheron liscio giustamente oh ma magari mi esce una copia di Guanai Fan si sa mai nella vita si sa mai succede qualcosa di magicissimo oh l'ultima volta quando abbiamo fatto sì per il meme è stato con Shanyun ho tirato una multi nel banner di Shanyun e è riuscita ovvio per il meme ok qua mi meriterei l'Eliana sinceramente ah bella questa bella bella non so quanti ne fai no ma non credo di averne molti il 2 2 multine liscio bene perché comunque diciamo che quando prenderò argenti quel giorno andiamo dai un'altra genius response tipo felicissima anche se vedo me l'Eliana sinceramente va bene assolutamente va benissimo anche se vedevo me l'Eliana ero contenta bene detto questo andiamo dai pt35 e 45 5 stelle boh clara o una vabbè va bene tutto in realtà il permanente a pt35 non dico niente non dico niente questa è a 36 non dico nulla non dico nulla però se dovesse essere clara si fa tipo mega festone ma al dubito 36 37 38 39 40 41 42 lei è uno di Gepard io ce l'ho tutti e 0 buono 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 è uno di Gepard allora ho fatto bene a buildarlo questo mi perseguita non che mi dispiaccia è onestamente buono alice lo vorresti lei è uno di Gepard no comunque bene bene io comunque l'ho iniziato a bicello l'ho iniziato l'ho quasi finito di buildare in realtà gli sto facendo le relics e devo portare all'80 quindi ok poi come dicevamo prima pura poesia ausbando materials e soprattutto a pt41 nel permanente si alza le mani cioè onestamente pt41 nel permanente a sbando materials si alza le mani e si ringrazia si si comunque sampo ha delle percentuali più alte non c'è verso va bene altra multi ora figuriamoci se c'è qualcosa altro ok che cazzo dite raga che cazzo ma dai ma un po' di esse è il banner di sparkle questo ma oh ma io ho parole bravi ma che pt eravamo 3 4 quant'era non so nemmeno da cosa devo contare arma di bronia tanta roba sarebbe ma che pt siamo raga io ho perso il conto comunque un bel tt sono 3 4 3 5 stelle pt 4 questa dovrebbe essere la quinta ok 5 pt 5 pt 6 pt 7 8 9 10 no 11 12 13 l'ultima l'ultima a pt 14 oggi è il mio gepard day molto bene la do ragazzi porca miseria sono contentissima questa cazzo di arma se la litigavano se la litigavano gepard e quella cessa della trailblazer adesso non se la litiga più nessuno le porto entrambi su top oggi benessere io ero lì a fare tutto un questa grazie l'ultima Grazie a tutti.